Musica Nuova edizione per il telegiornale sportivo di Teletruria per questo sabato sport. Allora iniziamo subito con quella che è una vera e propria vigilia per Arezzo Ascoli, una partita di grande interesse alla luce della prima uscita. È un test valido anche in prospettiva campionato, ma ricordiamo parliamo di Coppa Italia in questo caso. Gaddini in dubbio, torna Gigli invece a disposizione. Mister vigilia di Arezzo Ascoli contro una nobile di questo girone, prove tecniche anche per il campionato? Prove tecniche soprattutto per noi perché è chiaro ci permette di dare continuità a quella che è stata la trasferta di Pesaro. In un discorso di percorso di crescita a livello tecnico, a livello tattico e a livello condizionale. Poi in questo momento vedere un altro avversario che incontreremo in campionato, io dico un po' prematuro perché soprattutto l'Ascoli sta cambiando molto. Secondo me ci saranno pochi riferimenti rispetto alla partita che ha disputato contro il Campobasso, avendo inserito altri elementi sia nella convocazione per quanto riguarda l'acquisizione. Quindi ci concentriamo soprattutto su quello che deve essere il nostro step, che ci permetterà di arrivare meglio al cospetto della prima di campionato. Ma poi dobbiamo soprattutto concentrarci sulla posta in pario. Lanzarini indisponibile per la squalifica, torna invece a disposizione Gigli. Per quanto riguarda invece Gaddini, le sue condizioni ultimamente la stanno preoccupando? Sì, un po' sì perché comunque ha subito questa influenza non da poco, però il ragazzo sta cercando in tutti i modi di esserci. Nell'allenamento di domani mattina valuteremo, a cospetto della giornata di oggi, come stare al ragazzo per valutare la sua disponibilità. Un luogo comune dice che vincere aiuta a vincere. Sicuramente la prova di Pesaro è stata confortante sotto tanti profili, in primis proprio per il suo lavoro. Magari è forse un po' troppo avanti la squadra? No, non perché se hai quella capacità di analizzare anche le cose che non sono andate a Pesaro e rimanendo con i piedi per terra senza fare il pompiere di voler spegnere troppe aspettative, è un po' la mentalità che ci deve accompagnare se vogliamo fare un qualcosa di importante, lavorare su tante circostanze dove a Pesaro potevamo fare meglio e trovo un gruppo che la pensa come me, disponibile, dove non si esalta più di tanto e disputa una settimana in vista di un'altra partita completamente diversa, altrettanto importante. Faccio una domanda che può sembrare banale, ma quanto è importante lavorare su un gruppo che per l'80% è già collaudato? Tanto, tanto e non lo nascondo, è la prima volta che mi succede e quindi è la conferma che poi è stato fatto un bel lavoro negli anni tra di loro, ma anche da parte della proprietà, cercando di tenere poi sempre uno zoccolo duro che permette anche ai nuovi, compreso me, di inserirsi al meglio. E sarà Marco Di Loreto ad arbitrare il match Arezzo-Ascoli in programma domani 18 agosto alle 21 allo stadio comunale Città di Arezzo per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. Il 28enne fischietto della sezione di Terni alla seconda stagione in Lega Pro sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Lauri di Gubbio e Andrea Manzini di Voghera e dal quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio. Nella scorsa stagione Di Loreto ha diretto 25 match ufficiali tra Serie C, Primavera 1, Primavera 2, Coppa Italia, Primavera con 100 munizioni, 13 espulsioni ed 11 rigori concessi. Non ha precedenti in carriera con Lascoli mentre ha arbitrato una sola volta l'Arezzo nel girone B di Serie C in occasione del match pareggiato 0-0 dagli Amaranto sul campo del Sestri Levante il 23 dicembre dello scorso anno. Non sfugge l'omonimia con l'ex calciatore dell'Arezzo che abita proprio dalle parti del direttore di gara. E adesso andiamo però in casa Ascoli perché proprio ad Ascoli hanno mal digerito la retrocessione e presentano una squadra dunque rinnovata per gran parte dell'organico. In panchina c'è Massimo Carrera che dopo la sua esperienza come secondo di Conte alla Juve ha avuto dei bei trascorsi in Russia. Di fronte all'Arezzo un Ascoli che arriva da una buona vittoria in Coppa con il Gubbio in casa per 2-1. Un gruppo molto rinnovato rispetto allo scorso anno con una rosa competitiva. Mister Carrera ha parole di elogio per gli Amaranto ponendo la squadra di Mister Troise fra le favorite a vincere la Serie C. Stiamo lavorando per costruire un gruppo nuovo e quindi ormai è che ci vuole un po' di tempo per amalgamare tutti i giocatori. Però quello che stiamo facendo è una crescita importante. Domani affrontiamo un'altra squadra che secondo me è sulla carta colpo lottale per vincere il campionato. È una squadra che gioca a calcio che gioca un buon calcio, è aggressiva e quindi dobbiamo fare un'ottima prestazione. La squadra che gioca bene a calcio si muovono tantissimo senza palla quindi è uno giocatore di qualità e dobbiamo essere bravi noi a non perdere le distanze non farci attrarre dalla palla e stare compatti e uniti. L'Ascoli, confermata la difesa a 4 si presenterà con un probabile 4-3-3. Nell'Ascoli non saranno disponibili per la partita di Coppa contro l'Arezzo, Forte, Sillipo e Cosimi. E torna un avversario di rango al città di Arezzo retrocesso con più di un rammarico dalla Serie B. L'Ascoli testa la sua squadra in vista anche dell'impegno di campionato e lo fa proprio contro l'Arezzo che ritroverà tra l'altro per strada nel corso della stagione. Dal 1960 le due squadre si sono affrontate 10 volte in terra toscana con tre successi degli Amaranto sei pareggi ed una sola vittoria dei Bianconeri. L'ultimo precedente risale al 21 settembre 2004 in Serie B con la squadra allora diretta da Marco Giampaolo come vediamo dalle immagini che pareggiò 0-0 contro i padroni di casa guidati da Pasquale Marino davanti ad oltre 7500 spettatori. Dunque domani grande appuntamento con la Coppa Italia ad Arezzo. Intanto torneremo fra pochissimo nel calcio adesso però ci spostiamo nel ciclismo tutto pronto per il Giro del Casentino la classicissima del nostro ciclismo che domani festeggia le sue 107 edizioni con quella del 2024 si celebra il novantesimo dalla vittoria di Gino Bartali nell'Albo d'Oro figurano anche nomi come Fausto Coppi e Gastone Nencini presente al Via quest'anno anche il campione italiano in carica Under-23 e ultimo vincitore della corsa Edoardo Zamperini. Saranno poco più di 200 gli iscritti all'edizione numero 107 del Giro del Casentino una delle corse ciclistiche più vecchie d'Italia che si disputerà domani domenica 18 agosto la corsa riservata agli elite e gli Under-23 organizzata dalla Unione Ciclistica Retina con il contributo decisivo del comune di Chiusi della Verna 166 chilometri sui quali si sfideranno molte delle migliori formazioni nazionali dalla Zalfior con Raccani recente vincitore del Memorial Tortoli a Montalto Guerra primatore della Coppa Bologna a Montellese solo per citare alcuni di questi in questa occasione saranno celebrati i 90 anni dal successo del grandissimo Giro Bartali con la maglia dell'Aquila nel 1934 5 anni dopo nel 39 vinse il Giro del Casentino il campionissimo Fausto Coppi un albo d'oro dunque speciale per la classicissima che oltre al nome del grande Giro dunque vede quello del campionissimo Fausto Coppi in quella che fu una delle sue ultime apparizioni nei dilettanti e anche non dimentichiamo Gastone Nencini il leone del Mugello che nella sua carriera alla pari di Bartali e Coppi ha vinto il Giro d'Italia e il Tour de France non mancano gli aretini vincitori di questa prestigiosa manifestazione il più combattivo è stato sicuramente Corrado Scatragli il meccanico dei bastioni che fu tra i più tenaci oppositori di Coppi nel 39 l'ultimo è stato Manuel Pesci che si impose in volata quattro anni fa attesa una corsa movimentata preoccupa il meteo alla pari del semaforo sul viadotto di Rassina gli organizzatori assicurano che saranno i vigili a dirigere il traffico l'esperienza di Ferragosto Docet partenza alle 14 arrivo a Corsalone verso le 17.30 e torniamo come promesso nel calcio ma ci spostiamo in serie D Gabriele Fumanti valuta con grande ottimismo il lavoro fatto in questa fase di preparazione il giocatore ha il giusto temperamento che serve agli obiettivi che segue la San Giovannese Gabriele Fumanti la preparazione sta giungendo al termine siamo al countdown ora ultimi amichevoli e poi inizia la Coppa Italia le impressioni insomma di questo mese di lavoro dai è stato un mese importante ci siamo allenati bene sotto un caldo direi molto importante diciamo però dai la squadra ha risposto bene abbiamo lavorato tanto sul campo anche fuori e abbiamo cercato sempre di di dare il massimo adesso si avvicina il campionato sono usciti i gironi è uscito il calendario e quindi dai ci stiamo preparando al meglio i tifosi ti hanno già visto in queste uscite ma se ti dovessi presentare cosa diresti? sono un difensore centrale e un difensore centrale vecchio stampo diciamo all'occorrenza so fare anche il terzino però ecco principalmente sono un centrale di difesa però il mister ha detto potrebbe qualche volta variare dal 4 al 3 in dietro ti trovi bene sia come braccetto che come centrale dei 4 allora ho giocatoci a 4 che a 3 principalmente mi piace più la difesa 4 però allo stesso tempo ho fatto anche la difesa 3 e sì riesco a fare tutto dai questo girone ti fa un po' paura? ma no paura rispetto per tutti paura di nessuno dai scendiamo ancora di categoria ma restiamo nel calcio il suo approdo al Buitoni ha fatto rumore per Riccardo Andreani siamo alla vigilia di un'avventura con grandi stimoli appunto nella squadra della città dove abita dopo una lunga militanza nella vicina Baldaccio Bruni allenamento del Sansepolcro nel campo di Gragnano con uno degli ultimi arrivati Riccardo Andreani difensore centrale fisico possente vabbè raccontaci brevemente la tua storia calcistica visto che sei giovanissimo e niente la mia storia calcistica a livello di prima squadra sempre trascorso a Anghiari alla Baldaccio passato dagli allievi che facevo il settore giovanile qua Sansepolcro e sono subito approdato sulla società Biancoverde nel quale sono stato sei anni e fino a quest'estate che c'è stato questo cambio perché c'è un minimo di ambizione superiore per puntare a qualcosa di più più alto che non sia una salvezza dunque già fatta la dichiarazione importante una squadra che mira a fare bene e mira in alto come ti sei trovato con i nuovi compagni ma bene bene comunque sia sono tutti i ragazzi che già conoscevo gente qui del posto appunto come era uno dei obiettivi appunto della società ricreare una squadra con ragazzi della zona e ci conosciamo già tutti da tanto quindi il clima dello spogliatoio è perfetto coppia centrale ti abbiamo visto nell'amichevole con Terzini quindi esperienza e gioventù sì esperienza non ne manca e Stefano le sue partite è la sua esperienza quindi sicuramente potrà aiutare molto comincerete con la coppa con tanti derby che poi ritroverete in campionato iniziamo con Pierantonio se non sbaglio e sarà subito un test importante perché sono una buona una buona rosa una buona corrazzata e sarà un buon test per vedere anche a che punto siamo a livello di preparazione nostra personale di squadra è tutto dal telegiornale sportivo ci rivediamo domani alla stessa ora arrivederci grazie a tutti grazie a tutti